Ciao ragazzi, bentornati nel mio garage, sono Simone, lo studente di batteria e in tantissimi mi avete chiesto, dopo che Matteo ve l'ha consigliato dopo che io ho fatto qualche esercizio con questa tecnica degli esercizi per imparare a portare la pulsazione con il charleston mentre stiamo suonando o teniamo il tempo con il ride quindi dopo la sigla vi mostro qualche esercizio bene ragazzi, il primo esercizio che vi posso consigliare per portare la pulsazione tenendo il charleston sono dei classici esercizi di tecnica oggi mi sono messo qui alla batteria, non sul palde, per non spostare tutta la roba, fare un giro però un primo esercizio potrebbe essere mettervi un metronomo e tenere solo il tempo con il charleston dove cade la pulsazione quindi pian piano su questa base iniziare a sviluppare la mano destra insieme noi cantavamo come fosse la duina quindi stessa cosa quindi pian piano ragazzi possiamo dopo questo esercizio con il charleston e la mano destra sviluppiamo anche il piede destro quindi sull'1 e 3 suoneremo insieme la cassa quando avete interiorizzato il tutto aggiungiamo anche il rullante quindi cassa sarà in 1 e 3 il rullante sarà in 2 e in 4 questo è un primo esercizio da portare su tutta la batteria bene ragazzi per oggi è tutto vi ringrazio di aver seguito questo video vi ringrazierò ancora di più se mettete una spolliciata commentate vi iscrivete al canale o vi iscrivete anche agli altri social che trovate qui in descrizione se avete bisogno di maggiori consigli scrivetemi pure privatamente sulla mia mail lo studente.batteria.gmail.com siete in tantissimi che state scrivendo le mail pian piano sia con le risposte a livello personale farò dei video blog che troverete sulla pagina facebook pian piano sto mettendo utilizzando le storie di instagram e snapchat quindi ragazzi seguitemi sui vari social per le domande sugli esercizi pian piano risponderò con altri video quindi lasciate la spolliciata commentate condividete questi video iscrivetevi al canale bacchette in mano andiamo a divertirci